come visualizzare la graduatoria terza fasciata su istanza online andiamo su istanza online clicchiamo e andiamo a fare l'accesso direttamente da questa posizione entriamo con lo speed in questo caso poste una volta che abbiamo avuto l'autorizzazione entriamo all'interno distanza online andiamo sul nominativo entriamo nell'area riservata e ci spostiamo a sinistra con il cursore sull'area riservata servizi clicchiamo su i tuoi servizi e andiamo a verificare la visualizzazione graduatoria di istituto A da terza fascia in questo caso non ci sono posizioni però per ognuno di voi troverete dove c'è la banda azzurra un occhietto per visualizzare la propria graduatoria grazie